nuovamente insieme amici delle auto della settimana se state pensando di cambiare la vostra automobile con una nuova di casa mitsubishi saiong o maindra scegliete l'ufficialità della concessionaria queen car corso grossetto 18 torino ben ritrovato massimiliano in questo elegantissimo showroom ciao a tutti ben ritrovati vi ricordiamo mese dell'eco incentivo mese del risparmio qui alla queen car fino a 10.000 euro di risparmio con una vettura da rottamare che vale zero vi ricordiamo anche la possibilità di comprare vetture a chilometro zero aziendali fino al 51% ce ne sono ben 400 dalle fiat alle abart alle lancia alle yunda e le chi e tutte con un super risparmio come le paghiamo le paghiamo addirittura il prossimo anno sempre con l'assicurazione furti incegno manutenzione casco e vi ricordiamo questo mese sulle vetture in pronta consegna anche le gomme da neve è impossibile non trovare l'automobile che state cercando e allora fate un salto qui in queen car nella sede di torino in corso grossetto 18 ma ora buttate via il telecomando e rimanete con noi con le grandi offerte targate queen car andiamo bellissima saion tivoli 1.6 benzina benzina gpl anche qui con l'eco bonus chilometro zero e rottamazione arriviamo a risparmiare fino a 10.000 euro il prezzo a partire da 14.900 euro sempre piccole rate sempre prima rata a gennaio e zero anticipo novità in casa saiong con la nuova tivoli nuove motorizzazioni in 1.2 benzina 115 cavalli il 1.5 turbo 163 cavalli addirittura col gpl anche la motorizzazione turbo diesel anche qui vettura nuova ma anche qui eco bonus un risparmio fino a 6.000 euro è il prezzo anche qui partire da 14.900 euro sempre piccole rate a partire da 149 euro al mese questa è la saiong xlv cosa vuol dire è un attivoli con un vano bagagli veramente molto più capiente e appena più lunga 700 litri di carico insomma un'automobile che va bene veramente per tutti gli utilizzi per la famiglia per caricare qualsiasi tipo di cosa ma attenzione perché per questo mese queen car vi dà l'opportunità di acquistare questa automobile fino a 10.000 euro di risparmio dal prezzo del listino cosa vuol dire che questa automobile la portate via a partire da soltanto 15.900 euro diversi allestimenti diverse motorizzazioni anche con cambio automatico anche con motorizzazione gpl continua il successo del nuovo corando motorizzazione 1500 benzina 163 cavalli anche disponibile gpl si adesso possiamo portare il corando gpl in pronta consegna via con un super risparmio con l'eco bonus fino a 9.000 euro si risparmiamo 9.000 euro dal listino il prezzo a partire da 18.900 euro venitela a vedere e provare su strada presso la sede queen car di torino trovate anche tante automobili d'occasione o aziendali cosa vuol dire automobili che sono ancora in garanzia ufficiale della casa hanno percorso pochissimi chilometri meno di 20.000 e automobili ancora tutte da sfruttare ma con un prezzo piccolissimo pensate questa lancia y12 versione gold quindi full full optional può essere vostra a soli 8.900 euro bellissima fiat tipo 1300 multigetto o 1600 turbodiesel allestimento easy longe attenzione al prezzo il listino pensate queste macchine costavano 24.000 euro si aziendali con pochi chilometri un risparmio che va oltre il 51 per cento a partire da 10.900 euro zero preoccupazioni zero anticipo sempre assicurazione manutenzione sono incluse nella rata altra opportunità da prendere al volo unico esemplare presente qui in queen car parliamo di un'automobile aziendale che ha percorso meno di 20.000 chilometri ancora in garanzia ufficiale della casa fiat panda versione lounge a 7.900 euro sempre in casa fiat sempre chilometro zero con la bellissima fiat 500 1200 benzina attenzione al prezzo 8.900 euro disponibile tantissime jeep reneghe 1000 benzina 1600 turbodiesel cambio automatico anche qui il risparmio è altissimo alla queen car una jeep 1000 benzina la portate via 15.900 euro una turbodiesel cambio automatico a partire da 19.900 euro eccola un'auto che fa chiudere i benzinai perché perché parliamo di una full electric mitsubishi disponibile a chilometri zero pronta da essere provata su strada avete capito bene sentite l'affare di quest'oggi perché acquistare questa macchina full electric vuol dire risparmiare quotidianamente soldini di carburante che non mettete più perché questa si attacca alla spina si ricarica e fate i chilometri che desiderate spendendo pochissimi centesimi di energia elettrica attenzione perché queen car vi dà l'opportunità di acquistare questa automobile full electric di casa mitsubishi a soli 199 euro al mese pensate quanto spendete di benzina in città per recarvi al lavoro ogni mese e vi renderete conto che con 199 euro al mese potrete viaggiare sempre senza blocchi del traffico con un'automobile full electric rispetto dell'ambiente ma soprattutto rispetto del vostro portafoglio certo 199 euro al mese vi dimenticate i benzinai e viaggiate su un'automobile nuova full electric sempre in casa fiat con la 500 x si motorizzazione benzina turbo diesel ultime vetture disponibili sempre con un super risparmio attenzione a questa vettura aziendale con pochi chilometri del 2019 a soli 14.900 euro vi ricordiamo che queen car è concessionario ufficiale qui a torino in corso grossetto numero 18 del marchio ma indra con tantissime novità la q100 1200 benzina adesso è disponibile anche a gpl con la promozione dell'eco bonus con la rottamazione questa vettura la portate via 9.900 euro piccole rate a partire da 99 euro al mese possiamo avere tutti i servizi la manutenzione la casco le gomme da neve addirittura e vi ricordiamo sempre il pagamento prima rata gennaio del 2021 sempre in casa ma indra non può mancare la novità l'xv 500 2 2 turbo diesel 4x4 attenzione al prezzo 19.900 euro portate via questa autovettura con piccole rate a partire da 199 euro al mese sempre garantita sempre cinque anni di garanzia fino a 6.000 euro di risparmio su un'automobile nuova ancora da immatricolare parliamo della piccola mitsubishi space star disponibile in pronta consegna attenzione al prezzo grazie alla campagna rottamazione può essere vostra a partire da soltanto 7.900 euro mitsubishi sx 2000 benzina novità anche qui in mitsubishi disponibile in pronta consegna arrivata la vettura gpl sempre super prezzo con la rottamazione risparmiamo anche qui 6.000 euro questa vettura ve la proponiamo a partire da 16.900 euro sempre cinque anni di garanzia sempre assicurazione sempre prima rata gennaio continua il successo del nuovo l200 2 2 turbo diesel autocarro sia club cab e doppia cabina perché queen car vi fa risparmiare col chilometro zero sì vettura in pronta consegna con un risparmio che va oltre il 25 per cento e il prezzo a partire da 18.900 euro più iva mitsubishi hotlander 2000 benzina pronta consegna gpl attenzione al prezzo con la rottamazione questa autovettura risparmiamo fino a 10.000 euro vuol dire portare via questa autovettura a 21.900 euro ritorniamo a parlare di automobili nuove perché vi ricordo che queen car è concessionaria ufficiale maindra san yong e mitsubishi e a proposito di mitsubishi grande opportunità per questo mese massimiliano si vi ricordiamo con l'eco bonus la rottamazione questo mese esempio questa bellissima vettura che vediamo la mitsubishi eclipse 1.500 benzina con un risparmio di 8.000 euro la portate via 17.900 euro ma la cosa importante prima rata gennaio zero anticipo l'assicurazione la manutenzione le gomme da neve già incluse tutte in una rata piccola mensile che va da 180 euro al mese su questa che vediamo sulle utilitarie a partire da 80 euro al mese ma la cosa importante la novità a carmagnola in via porino 6 nuova sede dove troverete tutti i marchi fiat lancia e abart sempre per la vendita e l'assistenza e allora avete capito amici è impossibile non trovare l'automobile che state cercando ma soprattutto al miglior prezzo vi ricordo queen car paradiso del risparmio qui trasmettiamo dalla sede di torino in corso grossetto 18 alla prossima